Una delle domande più ricorrenti è qual è il giudice competente per territorio nelle procedure di separazione e divorzio? Beh, per quanto riguarda la separazione è facile, è il giudice del luogo dove c'è stata la casa coniugale. In sede di divorzio non è sempre così, se per esempio uno dei due si trasferisce altrove e riceve la notifica di un ricorso, sicuramente il giudice competente per territorio sarà quello del nuovo comune di residenza dell'altro coniugale. Per cui c'è una profonda differenza, in entrambi i casi è possibile consensualizzare, è sempre meglio. Per tutte le altre informazioni iscrivetevi al canale di YouTube Studio Regale Cassani. Alla prossima!